L'innovazione è fondamentale perché intanto la nostra professione si è evoluta nel tempo, si è evoluta in maniera consistente, quindi riuscire in questo mestiere è sicuramente necessario in virtù dell'innovazione, quindi riuscire a stare al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, possono essere tecnologie di rilievo, tecnologie di comunicazione, è indubbiamente fondamentale. Intanto noi abbiamo l'obbligo di fare una formazione, abbiamo l'obbligo come professionisti, però sicuramente noi come collegio siamo abbastanza protesi verso questa cosa, infatti abbiamo una commissione che si occupa di questo e sicuramente recepiamo a braccia aperte tutte le iniziative che ci sono e sicuramente quelli che sono gli indirizzi del mercato che offre e che certamente spinge a valutare. È molto innovativo, è un collegio giovane, fresco e al passo con i tempi.